Mancano solo pochi giorni all'inizio del congresso eucaristico e all'arrivo del Papa ad Ancona. Il grande evento che tutti i marchigiani aspettano è ormai arrivato. L'11 settembre Benedetto XVI celebrerà la Santa Messa nella zona del Porto, alla Fincantieri. Tantissimi saranno i pellegrini che da tutta Italia e dal mondo giungeranno nel capoluogo dorico. Nel frattempo i lavori di restyling della città stanno proseguendo. In particolare il palco che ospiterà l'evento finale è già a buon punto. La corsa contro il tempo è ormai partita. All'appello mancano alcuni cantieri ancora da aprire e delle opere da terminare. Anche se l'assessore ai lavori pubblici del comune, Paolo Pasquini, e il capo della protezione civile regionale, Roberto Reficini, si dicono sicuri sul rispetto dei tempi e sulla conclusione dei lavori entro il termine previsto. Grazie. Grazie.